Eccomi qui finalmente nel tipi del grande capo Esticazzi. Esticazzi saluta tribù di Vettorio e Vettoria. Lo sa grande capo che ho messo veramente tantissimo tempo per arrivare qui nel suo tipi. Esticazzi allora accoglie te con grande gioia il suo tipi. Sì, noi siamo qui in realtà per una dichiarazione che ha fatto Cristiano Malgioglio. Ah, Cristiano Malgioglio ha fatto dichiarazione? Sì. Esticazzi è curioso di sapere qual è la sua dichiarazione. Cristiano Malgioglio ha dichiarato di avere un bellissimo rapporto con il suo ciuffo. Gli parla, lo accarezza, gli dà il balsamo, lo tinge. Ah, questo è il rapporto che lui ha con il suo ciuffo? Sì. Esticazzi pensa che forse lui ha bisogno di compagnia. Cristiano Malgioglio ha anche dichiarato di avere uno splendido rapporto con la Cipria. Lui ama tantissimo la Cipria e la sua compagna di sempre. Subito dopo la limetta per il pedicure. Esticazzi pensa che lui ragiona come scuo. È bello che ogni tanto l'uomo abbandona vestigia di grande guerriero e ragiona come scuo. Cristiano Malgioglio può essere scuo o può essere grande guerriero. Comunque Cristiano Malgioglio, comunque Esticazzi, pensa che lui può fare quello che vuole. Grazie, grande capo. Esticazzi saluta il tribù di Vittorio e Vittoria.